C'era bisogno di un cambiamento, e lì il colpo di genio. Abbiamo riportato l'Everversum dell'anno 1, le stesse armi e armature, allora perché non riportare anche lo stesso meta? Ricominciamo il ciclo, ancora e ancora, solo che la nostra non è una maledizione dei corrotti. Vi diamo quindi il benvenuto alla stagione degli automatici. Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete detto, lo titolo andremo a giocare con un'arma nuovissima mai vista prima, ovvero di dura luce, incredibile. Penso che dalla clip iniziale abbiate già capito qual è il senso di questo video, ovvero farvi capire che gli automatici sono diventati qualcosa di illegalissimo. In particolare gli automatici da 600 colpi al minuto sono diventati veramente l'arma più utilizzata del crogiolo, l'arma meta si potrebbe dire, si può dire, si può affermare. E in particolare il dura luce trova un'applicazione veramente molto molto buona. Per quale motivo? Non per il super che esotico perché è abbastanza inutile il crogiolo, ma per il fatto che è forte ragazzi, non c'è niente da fa. È forte e inoltre c'è anche i colpi che rimbalzano, che in alcune situazioni sono veramente comodi e veramente fastidisi per gli avversari. Ho visto che comunque le armi più utilizzate in crogiolo al momento sono il dura luce e il suros regimen, che comunque arriverà a breve anche un video sul suros regimen perché non l'ho ancora provato. Avevo iniziato provando il dura luce perché l'ho trovato, cioè giocando mi è capitato sotto mano e ho visto che non era per niente male. Però ragazzi vedete che scioglie, è qualcosa di devastante, se prendo il nemico, ok. Non so cosa abbia detto Shaxx. Sto facendo paura ragazzi, sto facendo il devasto, ok. Cioè ho fatto 11 kill in 2 minuti. Penso che questa partita potremmo fare paura. Ora c'è anche da dire che comunque è un'arma esotica e per il suo perk esotico probabilmente non conviene sprecare, tra virgolette, uno slot esotico per un'arma che, diciamo, il perk non è la parte essenziale. Mannaggia il tipo che si è messo in mezzo. Probabilmente è più esotico il fatto che gli rimbalzano i colpi che il fatto che possa cambiare danno, per quanto riguarda il crogiolo ovviamente. Devo dire che il fatto che i colpi rimbalzino è abbastanza buono perché spesso ci ritroviamo in situazioni dove magari il nemico è un one shot oppure anche là dentro. Se io sparassi a caso, ora non c'è più nessuno, però prima c'era qualcuno. Se io avessi sparato a caso prima, probabilmente qualche colpo sarebbe entrato e ovviamente è difficile riuscire a uccidere una persona interamente di colpi che rimbalzano. Però in certe situazioni ho finito i colpi, non ci sto a credere, raga. No, non mi dite così. Io da cazzo mi trovo i colpi primari. Dicevo, in certe situazioni devo dire che non è per niente male. No, cazzo, raga, ho proprio finito i colpi. Sto tipo in serie da 14, da 15. Ecco, dicevo, appunto, sono quasi in serie. Oh, non ho finito i colpi! I colpi, raga! Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ho dieci, nove colpi, ce la faccio? No! Porca miseria, raga, ma che è successo? Che è successo? Io ve l'ho detto che il star me l'ha devastante. Delirio, delirio. Un run out 5 minuti. Vai, puntiamo al secondo, su. Stavo dicendo, comunque, è abbastanza improbabile che riusciate a fare una kill solamente di colpi rimbalzanti. Perché dovreste fare veramente un botto di colpi. Però, in certe situazioni, può essere veramente molto, molto comoda. Vabbè, raga, io smetto di parlare di quest'arma, perché tanto basta che sparo e il resto fa tutto da sola. Cioè, non c'è bisogno che ve la spiego anche, basta che, insomma... Poi, tra l'altro, ho messo anche un botto di modifiche, perché l'artefatto di questa stagione ha veramente tante modifiche per gli automatici. Quindi ho messo modifiche per l'antisussulto, un antisussulto potenziato, una ricarica potenziata. Quindi ho veramente tante, tante modifiche che mi aiutano, ovviamente, per... Abbiamo vinto, ma vabbè, non so cosa sia successo. Direi una buona partita. Una buona partita, sì. Ecco, vediamo se la prossima sarà altrettanto buona. L'altro ha anche un'agitata allucinante, raga, prende da distanze abissali. Per essere un automatico, per avere così tanto rinculo, è veramente alta. Aia, mi sono andato a incuneare in un posto bruttino. Fuggi, fuggi, fuggi. Comunque, ragazzi, la morale di questo video è che CiccioGamer aveva ragione. Il Dura Luce è l'arma più forte del gioco, non c'è niente da fare. Comunque, ragazzi, il Dura Luce non è l'unico automatico che è stato potenziato, perché un po' in generale la classe degli automatici è stata abbaffata. Quindi aspettatevi parecchi video su diverse armi che ho sempre amato, essendo io un amante degli automatici. E che adesso potrebbero tornare in voga, diciamo. Torca miseria. Frank, marmotta, proprio lui. A Frank, marmotta, eh? Che cazzo, mamma mia. Cioè, la siamo sudata a sta kill, eh? E devo dire che non ho ancora provato gli automatici a bassa cadenza, 5.50, insomma. Che comunque sono una tipologia che alcuni, devo dire, non mi fanno per niente schifo. Tipo la mano destra di Garron, che ho usato per parecchio tempo, che fino anche a poco tempo fa non era per niente male. Voglio vedere con questo, diciamo, piccolo buff degli automatici in che situazione sta. Frank, marmotta, non può niente ormai. Parca miseria. Guardate la dove prende, raga, ma che cos'è? Guarda tu, che distanze riesci a raggiungere questa cosa? E non ho nemmeno il catalizzatore, che teoricamente dovrebbe aumentargli la stabilità, quindi... Avendoci sta gettata sarebbe ancora più facile uccidere da distanze più lunghe. Frank, marmotta, no. Porca miseria. No, 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 mi sono incastrati. Abbiamo un minuto e sedici. Se riesco a fare altri dieci chili in un minuto e sedici... Abbiamo fatto il botto. Dove è andato? Se riesco a fare altri dieci chili in un minuto e sedici... Ok, non è stata la partita di prima, ma non ho giocato per niente male. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ci piace, ragazzi. Devo dire, il Dura Luce io... Riscoperta, devastante. L'avete visto voi stessi. Due partite decisamente buone, un run out. E quindi niente, ragazzi. Io... Quest'arma ve la consiglio assolutamente. Aspettatevi un sacco di videosi automatici. Vi faccio vedere al volo... No, non è vero. Al volo... Beh, 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 beh. Qualcosa che avete visto già nell'inventario. E voglio lasciarvi con questa piccola domanda. Secondo voi, se un automatico da 600 colpi al minuto esotico è così buono... Ci sarà un'alternativa leggendaria? Oppure non esotica? Detto questo, ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate la like, commentate e condividetelo. Dito a tutti quelli che non conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Dobbiamo cambiare la intro, ma non so ancora l'outro. Ma non so ancora come fare, perché... Vabbè, ciao. Siamo la tua salvezza.